Ma tu sai quello della catenaccia di protagio? Allora, guarda, guarda, senti, allora fa una cosa, mi metti gentilmente, ascolta, mi metti la Roma a 7, a 7 mi metti la Roma, eh, poi, no, lascia perdere l'Inter che non va bene, no, anche a Milano, lascia perdere i milanesi quest'anno non devono andare, non devono preoccupare che ce la so, non devono andare. Allora, guarda, mi metti, Napoli, Napoli, guarda, è due e mezzo, va, va, due e settanta, eh, settanta e cinque, bo, la Juventus lascia la perdere, la Juventus, uno e vinte, e guarda, tanto vince, e non c'è niente da fare, quello è già tutto scritto, non devi preoccupare, sì, ho parlato con Lillino, eh, ho parlato con Lillino, ah, a proposito, invece, scusa, no, è importante anche le squadre che devono retrocedere, allora, guarda, te lo dico subito, devono retrocedere, o Cagliari, Cagliari, proprio niente, segnato, segnato, allora, o Cagliari, il Siena non ce la può fare, sì, va, bo, ventura, ho capito, ma l'altro deve essere il Torino, no, già c'è, dopo Chievo, lo dobbiamo salvare, sì, quindi ripeto, Cagliari, Siena e Torino, e Chievo me lo fai salvare, va, bo, ciao, ciao, ciao. Arrivederci, ma per me non c'è niente adesso, niente, sta telefonando, ma bene, ma è un mese che, ma falda, ma falda, maestro, ma allora, Antonio sta andando a fare la giocata, niente, si, prende i soldi dai clienti e poi va a fare la giocata. A Ciccio, allora, che avete deciso di mandare a fare B, al Cagliari, al Siena e al Torino, qua io ve lo dico subito, non mi fate incazzare, non mi toccate a Lazio, perché veramente succede proprio al finimondo quest'anno, ve lo dico subito, va bene, mi raccomando Ciccio, ok, se vi sentite, ciao. Vabbè, ci sarà pure qualcosa per te, prima o poi, ci sarà, ci sarà, vabbè, ciao.